Presentare il libro di Antonio San Gervasio, inutile tentare come inizia. Allora, voglio essere breve però dire una cosa importante per Antonio. Tanto che è un poeta in continua evoluzione, quindi è un poeta che ci accompagna a conoscere la sua anima attraverso queste due schiene. Ha un linguaggio che a volte appare a start, che si rifà un po' al post-ermetismo, per cui non è di facile l'interpretazione a volte. La sua poesia è affascinante, nel senso che lui si mette nel nudo davanti a chi lo legge e riesce a fatturarsi con alcuni suoi versi che a volte appaiono spiazzanti. Io non vorrei stare qui a dire cose che possono morire, ma non vorrei lasciar parlare le poesie, perché è attraverso la poesia di Antonio che riuscirete a capire com'è lui come persona, una splendida persona che quando c'è da fare qualcosa per gli altri si mette sempre in prima persona. Per cui vorrei che Giuseppe, insomma, desse voce alle sue poesie. La porta dei poesie. Io voglio aprire la porta che non c'è. I poppastrelli graffiano una tabele di mani e fatti. Una spia dallo specchio osserva, argomenta e gianci della mente, le notti sudate, gli odori nello spazio, la morte che scappa, la memoria, nei riscordi. Sopra gli abissi, fiumi di inchiostri, le sondano le ragioni e tutto il mondo fruisce in visioni onibili. Come al ritorno dal lontano viaggio mi distendo al sogno e penso alle immagini che passano, liberi, senza confini. Grazie. 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 Grazie.